Sei storto, sei sceno, bassino, sei brutto Mi sembri uno gnovo, con le gambette corte, con le manine storte, con 4 o 5 menti Tu sei veramente storto Sì, ma non troppo Ragazzi, sto morendo sempre Io conosco Stortino Raga, so che magari lui a volte si può mettere anche a zecca, però non tanto, così Ora vi spiego cosa sta succedendo Sono esattamente come vedete dall'orologio, mezzanotte e 47 Dark ha aggiunto su Twitch praticamente degli audio Come presente ha fatto anche tipo Matteo HS Che se tu spammi in chat dei punti esclamativi con le parole Cosa che andrò ad attivare anche io nelle mie live Parte un audio con una frase fatta da Dark E presente io è tipo tutta sera che mi sto divertendo ad assillarlo E lo sto tartassando di questi suoni Ma cosa succede? Che adesso lì è venuto il dubbio Perché dice ok Michi lo fa per scherzo Però dopo un po' la smette Non è che l'hanno hackerato E qui adesso ho detto Genialata, faccio il video E mi fingo che sono una persona che le ha rubato la canta Non ha senso farlo raga Lo stortino non mica fa video così Qui voglio ricordare a tutti che lo stortino si è spostato a fare live su Twitch Quindi mi raccomando seguitemi Siamo a 5591 follower Se arriviamo a 10.000 follower lo stortino ha un contest speciale Per tutti i miei iscritti ovviamente che mi seguono qui su Twitch Ora gli andrò a rifare ancora ambulanza E secondo me qua Inizia veramente a preoccuparsi che mi hanno rubato l'account Sono sicuro Ok Raga sentite comunque quanto è bello l'audio No raga è impossibile che stortino Dai È impossibile che si mette questa azienda Non lo farebbe No L'angioletto dello stortino Ma con questa faccia vuoi che ti fa uno scherzetto così Mi sta chiamando bombardando di messaggi raga Gli ho scritto si sono io Così gli faccio venire ancora di più il dubbio Perché se dico no non sono io Capisce che lo sto prendendo in giro Sì sono io Rispondimi su Whatsapp Raga facciamo venire un'altra ambulanza Vabbè cominciamo così raga Aspetta cosa sta facendo No Mi ha ballato Io l'ho ballato Ok Io l'ho ballato Fin quando non mi scrive su Whatsapp Non lo sparano Come nel video di R.D.T. È tempo di far entrare in gioco Il secondo account Vai raga ho fatto sorte sempre qui Dai così capisce Facciamoglielo capire No 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 te non puoi non capire adesso che è uno scherzo Non puoi non capire che è uno scherzo Cioè non ha servo Vabbè tanto non è sub Dovrebbe fare la sub Quindi Sto facendo la sub Sto facendo la sub Sto facendo la sub Raga Preparatevi Ok Ok raga gliel'ho fatta Dai raga ma non ci credo Ha fatto la sub Che cosa ne puoi fare Non ho capito Raga ha penato un polmone Non mi interessa Non mi interessa No Non mi interessa No mi ho bagnato No Pezzo di fango Perché lo sa che lo vanno Non mi senti sotto a casa No Non è lui Non lo posso assicurare Ho appena creato il secondo profilo Gli faccio win raga Vai raga nuova sub No fin quando gli si win lo lascio Raga nuova sub Raga l'ultimo ovviamente Ok veloce Ok Ok raga Non è lui Hai fatto ancora Meno male che ha fatto win E io ti banno di nuovo No non lui raga No raga io lo banno No No Raga io so No raga No raga non siamo riusciti a fare l'ambulanza No È impossibile Raga lui pensa che mi hanno hackerato Puro che non è storto Quello posso assicurare Che è impossibile E ora è il momento di rivelarci Nina 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 No ma lo storto dorme a quest'ora Buonasera Allora che le ho mandato l'audio Ma pure io Attenzione No vabbè No vabbè No vabbè No ma lo storto dorme a quest'ora No ma lo stiamo scherzando Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Raga voglio 4.000 like per questo video Siamo scherzando Mi ha sbloccato Mi ha sbloccato Mi ha sbloccato Ma è stupido questo È stupido Ragazzi Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Se è stato così Mi raccomando Vi invito a lasciare tutti Un bel like Se volete magari Che lo stortino Va a far impazzire qualcun altro Mi raccomando Iscrivete qui sotto Nei commenti E che dire raga Noi ci si becca Ad un prossimo video Come sempre Un segretario dal vostro Storto Sono proprio storto Ma non troppo Ciao belli Ciao belli